Nella parola di oggi sembra ponderante il tema della luce, tanto è vero che nella prima lettera di Giovanni Apostolo si parla di chi ama suo fratello rimane la luce, mentre nel Vangelo quanto Simeone parla di Gesù che viene presentato al Tempio, lo presenta come luce per rivelarti alla gente. Che significa? E con noi spesso pensiamo di avere la luce, di vedere in modo corretto, in modo giusto la vita, quanto in realtà la parola di Dio ci dà due criteri importanti. Il primo, chi è nella luce ama il fratello, non lo disprezza, è la carità il segno che siamo veramente nella luce del Signore. E il secondo, per poter vedere in modo corretto, vedere dal punto di vista di Gesù Cristo, non dal nostro punto di vista, non dalla nostra visione, non dal nostro modo di vedere, è Lui chi è innestato, è Lui può vedere in modo vero, in modo corretto, in modo possiamo dire anche divino e misericordioso la realtà. E che allora la preghiera di oggi non può non essere questo, Signore dammi la luce per poter vedere con i tuoi occhi, perché solo la tua luce mi permette di amare chiunque il Signore mette accanto. Buona missio.